Sì, queste sono le mie tre armature opere e in questa io sono un medico chirurgico vascolare, ho unito la parte artistica alla parte chirurgica perché ho tagliato delle dritte del cuore, ho cucito con un filo di seta e solo l'amore guarisce, facendo un peggio di una roba, una torta. Non ci posso, posso? No, 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 a caldo, a caldo, a caldo. Ha preso, ha preso anche il mio belletto. Stupendo, completto, non mi la vedo di stare lì. Non mi la vedo di stare lì, non mi la vedo di stare lì.